Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Manosporio 07 Siamo qui con il riassunto della venticinquesima giornata di Serie A Team 2020-2021 Una rubrica che porto praticamente, sono uno dei pochi su YouTube a portarla E non ho stato tutta anche poche specializzazioni, piango, va bene ragazzi Comunque ricordo che sono un ragazzo gioventino La Juve l'ho analizzata in un video a parte insieme alle pagelle peraltro Detto questo ragazzi, noi ci prendiamo in chiacchiere Questa è stata una giornata che ha visto l'Inter allungare in vetta Ma partiamo subito col video Iniziamo da Cagliari-Bologna L'ordine è un po' sparse ragazzi, lo sapete ormai La decide Rugani, la decide Rugani Rugani che torna in Serie A, torna a segnare Ora magari molti, il problema del calcio italiano è questo Che molti vedono Rugani sul tabellino dei marcatori E qualche Juventino scettico può dire Ma potevamo tenercelo noi visto che è tornato e già assegnato Oppure qualcun altro vede, ha segnato Rugani, sta facendo bene col Cagliari Allora, se sta facendo bene non posso giudicarlo alle partite giocate Io non guardo le partite del Cagliari, guardo gli highlights Però ragazzi, non è che uno segna e vuol dire che è forte in difesa Uno per prima cosa deve saper fare il mestiere suo Perché Rugani di testa penso sia più forte della metà dei difensori centrali che la Juve Ma la Juve così come tante altre squadre Perché pure il Milan voleva prendere Rugani alla fine ha preso da morire Ma non bisogna giudicare solo da lì Per il resto voglio sapere Secondo voi Perché il Cagliari andava male prima? Era una questione per me più di mentalità Perché di Francesco effettivamente non è che li faceva giocare male Era un Cagliari in crisi di risultati e non di prestazioni Ma comunque un allenatore non deve saper mettere solo tatticamente i giocatori in campo Questo comunque è la BC ragazzi Infatti Semplici Due partite due vittorie Semplici che con le precedenti squadre ha sempre fatto Ha sempre rispettato le aspettative La Spal era una squadra da quindicesimo posto Semplici faceva quindicesimo La Spal era da ultimo posto Semplici faceva ultimo Il Cagliari non è da zona di recessione Semplici lo sa e ha fatto due vittorie Quindi benissimo così per lui Per quanto riguarda il Bologna è secondo me più forte del Cagliari Il Bologna arriva un certo periodo dove sembra voler staccare la spina Dove dice Perché mi dà l'impressione che se gioca al 100% Il Bologna può essere molto più in alto rispetto a dove è ora Ovvero dodicesima Così però no L'Udinese pareggia col Milan Io il Milan ho sempre detto Ragazzi inutile dire che il Milan è fortunato Se un rigore c'è lo si fischia E se non era rigore questo Però ragazzi ha tempo scaduto Cioè ragazzi forse è capitata la Juve Ora non vorrei ripetere sempre la stessa storia e tutto Ma forse è capitata la Juve Di che staremo parlando adesso Cioè ragazzi così però no Questo rigore non era da fischiare Cioè non era da andare oltre Quindi a parti invertite come ha detto Gotti L'ha detto l'allenatore dell'Udinese ragazzi Non lo sto dicendo io E volevo vedere come sarebbe andata A finire la questione in quel caso ragazzi E vabbè così però no Ma alla fine il rigore di esserci c'è Il Milan che ottiene questo punto Il Milan che continua a perdere tanto tanto Ormai non sanno più vincere in qualche modo È una squadra un po' in crisi di prestazioni Vedremo con l'andare del tempo Se si riprenderanno come livelli di prima Bene anche Genoa e Sampdoria Un punto a testa Genoa tredicesimo Sampdoria decimo Sulla zona salvezza con il Torino Che però ha due gare in meno La Sampdoria ha 11 punti di vantaggio Comunque un po' dimezzate Rispetto a quanti ne aveva prima Sampdoria che dicevo Ha 11 punti di vantaggio Mentre il Genoa Ne ha 7 Non tanti Però comunque per il momento Possono stare tranquilli Nonostante hanno fatto tipo 9 risultati utili in 10 partite E il Genoa solamente 7 punti di vantaggio Ora sulla salvezza Con un Torino che però ha due gare in meno Comunque Se sono divisa la posta in palio E giustissimo il pareggio Non ho nulla da dire A riguardo C'è da preoccuparsi Eh sì perché il Benevento Ragazzi non vince da un bel po' di gara Ha fatto 4 pareggi di fila E adesso ha fatto 2 sconfitte di fila ragazzi Un Benevento un po' in crisi Comunque sono più risultati utili 13 che delle sconfitte 12 Quindi Qualcosa di buono è stato fatto Finora il bilancio è positivo Cioè se devo dare un voto Alla stagione del Benevento Finora è 6 Perché hanno fatto 25 punti In 25 partite Praticamente ciò che si deve aspettare Da un'anno promossa Fare più o meno Intorno ai 40 punti Con sta media Andrebbero a 38 punti alla fine Quindi Insomma Stanno facendo bene Però c'è un po' da preoccuparsi Perché sono un bel po' di gara Che non si vince Quindi Auguro per loro Che si possano rifare Nella prossima Sempre se la prossima Non c'erano contro di noi Perché questo Non me lo ricordo ragazzi E sì dopo la Lazio Mi sa tanto che il Benevento abbiamo Ci abbiamo sperato tutti Ci abbiamo sperato tutti All'accaduta dell'Inter Col Parma Era un bel po' di gare di fila Che l'Inter non vinceva col Parma E invece ha vinto con doppietta di Sanchez Anche perché il Parma ha dovuto giocare Con Caramoy Musi attaccanti Una cosa veramente Fuori dal comune Doppietta di Sanchez Che ce l'avevo in panchina Il fantacalcio Per mettere il titolare Lautaro Che è entrato solamente A 10 minuti dalla fine Giusto il tempo di prendermi sei E dire Col cazzo Che ti entra Sanchez Mannaccia a Cristo E vabbè Ci abbiamo sperato tutti Ma nulla da fare Purtroppo Death's Life La vita così La vita va così E vabbè Fatto roppietta L'Inter ha vinto L'Inter che ottiene la sua Sesta vittoria di fila E ormai È un bel po' Che non perdono più questi Speriamo perdono punti Perché se no Veramente la vedo durissima Per Milan e Juve Fa tutto spinazzola In Fiorentina-Roma Fiorentina-Roma Che si è conclusa 1-2 Con il god di Diavarà Alla fine Diavarà che in qualche modo Può riscattarsi La Roma starà Praticamente un mese Senza avere tu Diavarà può riprendersi Il posto al fianco Di Villar Anche se Diavarà-Villar Non li vedo bene Probabilmente Taticamente parlando Diavarà dovrebbe stare Vicino a Pellegrini In mediana Perché serve più o meno Uno che Che sappia Agire In coppia con Diavarà E per caratteristiche Tecniche Diciamo vedo meglio Pellegrini La Viola Continua a non vincere Dopo la vittoria Di 3-0 Sullo Spezia Sono appena 6 Le vittorie In 25 partite Per la Fiorentina 25 punti In 25 partite Praticamente Sono a pari punti Con Spezia e Benevento Ragazzi Con appena 5 punti Di vantaggio Sulla zona salvezza Con il Torino Che ha due gare in meno Ragazzi Quindi veramente Stanno facendo Un po' cagare La Fiorentina La Roma Che ottiene L'ennesima vittoria Contro una squadra piccola Perché ormai La Fiorentina È una squadra piccola E vola A 47 punti A meno 2 Dall'Atalanta Non il migliore Degli esordi Per Cerse Cosmic Sulla panchina Del Crotone Che torna in Serie A Praticamente Dopo 9 anni Non so perché L'abbiano chiamato Considerato che Erano accomodati In panchina Allenatori molto Molto forti Ovviamente Non parlo di Allegri Sarri Spalletti Ma ragazzi Ce ne stanno Di allenatori Comunque buoni Seduti in panchina Con tutto il rispetto Per Cerse Cosmic Con tutto il rispetto Ma non le le inseriamo Ormai da veramente Tanto tempo E dubito Che possa fare bene Praticamente Il Crotone Secondo me Si è condannato Perché hanno 9 punti Da recuperare Sul Cagliari E ormai Hanno fatto Un qualcosa Come 7 sconfitte Di fila Quindi Dubito Che riusciranno In qualche modo A recuperare Per quanto riguarda Il Napoli Ragazzi Non lo so Praticamente Delle ultime 20 partite Non ne hanno vinto Manco il 50% Tra tutte le competizioni Ragazzi Con l'Atalanta Hanno ottenuto Un pareggio e due sconfitte Poi in Europa League Hanno pareggiato Le ultime due del girone E col Granada Si sono fatti eliminare Una squadra Comunque abbastanza abortabile In campionato Ormai Hanno perso Muntere tutte le parti E con noi hanno vinto Ste merde Vabbè no Tutto il rispetto Ovviamente Sono ironico ragazzi Non me lo rendete Ma se qualche napoletano Mi guarda Però insomma Il Napoli Che secondo me Viene troppo criticato È una squadra Che veramente Gioca bene a pallone Sì È un Napoli Sicuramente un po' In crisi in risultati Ma che secondo me Se da domani Viene data fiducia Piena a Gattucio Secondo me Si riprende E va senza dubbio In Champions Almeno per me È così Detto questo ragazzi Il video termina qui Spurato che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Ti invito a lasciare Mi piace Caso con te Non dislike Commenta se siete d'accordo Se siete d'accordo Se siete d'accordo Con me Se non l'hai ancora fatto Iscriviti al canale In descrizione Il link per seguirmi Su Instagram Da ManuSport07 È tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Ciao